Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale questo video l'ho voluto registrare perché dopo il progetto smaltimento make up di cui trovate sempre il video sul mio canale che ho fatto per quest'anno 2020 che poi in realtà andrò a aggiornare per il periodo essivo ho pensato anche di andare in vista soprattutto degli ultimi acquisti che sto facendo della molle abbastanza consistente di make up che è arrivato e sta arrivando in casa ho pensato di andare a rispolverare appunto tutti i prodotti che ho già che magari ho da un po' di tempo, che ho utilizzato poco, non ho utilizzato che ho aperto, poi ho lasciato lì per appunto prefiggermi di andare non solo a terminare ma anche proprio a riutilizzare magari di scoprire dei prodotti non sfruttati nel modo che magari avrebbero meritato perché in generale io sono una persona sotto questo aspetto abbastanza metodica non in tutti gli aspetti della vita ma ci sono proprio delle cose che non devono un po' sfuggire al mio controllo e ad esempio devo sapere che la mia postazione nel make up ha una logica, ha un ordine questo mi succede anche, non so, ad esempio con il guardaroba o con altri aspetti della vita, magari sul lavoro lo ero molto nello studio poi nelle altre cose sono completamente magari disordinata mi dimentico però ci sono proprio delle cose su cui mi fisso e diciamo che probabilmente il make up così come l'abbigliamento su cui comunque si spendono tanti soldini ho sempre avuto questa cosa per cui non mi è mai piaciuto lo spreco non posso negare di acquistare poco perché comunque mi piace acquistare la novità mi piace anche un po' collezionare quindi questo non lo potrei dire però allo stesso tempo appunto mi piace fare l'acquisto consapevole e soprattutto cercare di utilizzare i prodotti il più possibile non mi piace magari avere tante cose buttate lì così nei cassetti senza ricordarmi poi che cosa ho comprato che cosa devo utilizzare puoi buttare perché il prodotto è scaduto è andato a male è una cosa proprio che non mi piace e quindi devo sempre avere tutto appunto sotto un certo controllo e quando vedo che magari la mole non mi permette di seguire tutto per bene e la cosa mi sta un po' sfuggendo ho sempre pensato di recuperare i prodotti che magari stavo lasciando lì per utilizzarli, per non farli scadere per sfruttarli il più possibile e proprio in questa logica ho deciso di registrare anche questo video dopo essere andata proprio a scovare quei prodotti che secondo me devo andare ad utilizzare molto di più come vedete li ho messo tutti in questa scatola di Sephora e non sono per nulla pochi quindi questo dice qualcosa sul fatto che comunque per quanto mi ci impegni la mole degli acquisti si fa sentire perché non riesco non sono riuscita proprio a stare dietro a tutto ma mi riprometto che appunto nonostante gli acquisti compulsivi di make up non mi farò sfuggire la situazione allora direi praticamente di iniziare per ogni tipologia di prodotto mi sembra quasi tutte le tipologie ne ho trovato almeno uno che dovevo assolutamente ripescare sono anche appunto prodotti indicati secondo me più per l'inverno quindi che hanno ragione di essere utilizzati più in questo periodo poi appunto magari anche questa tipologia di video la riproporrò magari anche in vista quella anche della primavera perché a seconda della stagione secondo me proprio il make up cambia assolutamente poi in estate si riduce tantissimo cambia proprio la tipologia quindi io direi di per quanto riguarda la categoria primer il prodotto che ho ripescato è il Prop & Prime Fix Plus Matte di MAC e io che non uso un prodotto di MAC in realtà non è che non lo uso o non mi piace il problema è che mi si è rotto lo spray vedete io schiaccio le ho provate tutte ma non va più e quindi per questa ragione vedete che ne ho utilizzato poco considerando che ce l'ho da un bel po' perché l'avevo preso mi sembra marzo dell'anno scorso quindi inizia a essere già un po' di tempo e assolutamente lo voglio andare a utilizzare prima che diventi inutilizzabile e quindi ho deciso che lo andrò a inserire all'interno di questa boccettina di Douglas con lo spray che utilizzo per bagnare i pennelli la blender di solito mettevo un tonico e appunto ci andrò a mettere il Fix Plus perché assolutamente lo voglio usare e anche perché non mi ricordo esattamente come mi sono trovata con questo prodotto perché l'avevo utilizzato un po' all'inizio poi con questa cosa che non andava mai tra una cosa e l'altra se di fretta, se di corsa e prendevo sempre un altro fissatore del make-up e quindi questa appunto categoria primer e fissatore make-up fa questo tutto e due andrò a recuperare sicuramente questo per quanto riguarda invece il fondotinta un fondotinta che voglio andare a riscoprire a utilizzare è lo Smashbox questo fondotinta tra l'altro molto famoso è lo studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation io l'ho comprato l'ho utilizzato una volta quindi è aperto e poi niente l'ho lasciato nel cassetto ed è un po' come proprio se me lo fossi dimenticato quindi assolutamente questo fondotinta lo voglio riprovare riutilizzare lo voglio riscoprire perché proprio non non mi ricordo proprio neanche come mi sono trovata e quindi questo per quanto riguarda il fondo diventa la mia il mio ripescaggio non c'è la colorazione perché devo aver tolto le tigre per quanto riguarda i correttori invece ne ho due uno è questo di Sephora che è il Bright Future nella colorazione 03 è questo correttore a penna che a me tra l'altro piaceva tantissimo perché ha proprio quell'effetto luce luminoso nella zona del contorno occhi non copre ovviamente tanto quindi se avete esigenza di coprire occhiaia o cose varie non va assolutamente bene ma se volete solamente un effetto luce o lo volete mettere al di sopra di un correttore che invece ha un effetto coprente è ottimo io appunto lo utilizzo da solo perché non devo andare sotto a coprire nulla di particolare e quindi l'effetto mi piace tantissimo ma non so perché l'ho utilizzato per un po' di tempo poi l'ho lasciato lì nel cassetto ultimamente non lo stavo più utilizzando quindi questo assolutamente lo voglio riprendere anche perché essendo un prodotto in crema direi che non è il caso di lasciarlo lì per poi farlo andare a male l'unico difetto che trovo di questo correttore è proprio l'applicatore non il penino per andarlo a mettere sui contorno occhi ma questo per farlo scendere perché o non scende o ne scende una quintalata questo è un po' un difetto che ho trovato in tutti i correttori in penna e su questo dovrebbero fare qualcosa però al di là di questo il prodotto mi piace molto l'altro correttore che voglio andare a riprendere invece è questo di Fenty Beauty questo è nella colorazione 210 il profilter e questo correttore questo ha un po' di tempo più della di quello di Sephora e io l'ho utilizzato e poi l'ho lasciato lì vedete sono quelle cose che invece poi proprio sfuggono perché era lì sotto tra i vari correttori e poi non lo andavo mai a cercare quindi anche questo lo devo andare a utilizzare capire come mi trovo perché non mi ricordo più assolutamente essendo passato parecchio per quanto riguarda le cipre invece voglio riprendere questa della Essence All About Matte Fixing Powder tra l'altro con questa non mi trovavo assolutamente male perché è comunque sottile setosa e tiene bene la lucidità però appunto la voglio recuperare in questo periodo invernale perché essendo comunque bianca tutte le cipre bianche tendono un po' leggermente a sbiancare e questo direi che poi nel periodo primaverile soprattutto estivo dove si trucca meno e soprattutto si è abbronzati questo effetto un po' sbiancante non è non è assolutamente dei migliori quindi lo voglio recuperare in questo periodo per quanto riguarda le terre invece vado a recuperare questa di Kiko della Sparkling Holiday Baked Power 04 Sienna perché praticamente ho un'altra identica che ho preso con la collezione natalizza di quest'anno quindi questa avendo molto più tempo essendo della collezione del 2018 la voglio andare a utilizzare di più anche perché mi piace moltissimo le terre di Kiko sono veramente ottime così come anche i blush e quindi assolutamente questa la voglio riutilizzare di più e poi voglio utilizzare di più questo prodotto duo sempre della Sparkling Holiday dell'anno scorso quindi del 2018 perché l'anno scorso può sembrare il 2019 il duo blush 02 Biscuit Desire in realtà duo blush ma io utilizzo questo prodotto come blush e questo come illuminante vedete è anche un bel illuminante questo è un blush invece molto naturale e devo dire che anche questo prodotto in sé non mi dispiace per nulla l'ho utilizzato anche nella full face di Kiko il video che ho fatto della full face di Kiko non è niente male però anche questo l'ho utilizzato un po' poco avendo più di un anno questo prodotto e quindi assolutamente è rientrato nel ripescaggio così come ripesco questa palette viso di Kiko sempre della linea Sparkling Olive Fabulous Highlighter Palette perché appunto sono tutti i prodotti che ho preso nella collezione natalizia del 2018 che non mi dispiacciono ma che non ho utilizzato come avrebbero meritato ci sono se allora dice che è una palette di illuminanti ma in realtà queste due sono illuminanti questo è un blush luminoso e questa una terra luminosa assolutamente la ripesco per questo periodo perché poi essendo proprio anche della collezione natalizia diciamo che tutti questi blush terre luminosi tutti questi illuminanti si utilizzano molto di più d'inverno dove la pelle è anche un po' più secca dove si può usare un po' più quella luminosità perché assolutamente d'estate già avendo la pelle mista d'estate ce l'ho già molto più lucida di suo quindi non andrei mai utilizzare dei prodotti del genere quindi assolutamente li voglio ripescare per questo periodo questo è il blush vedete come è luminoso anche la la terra e questi sono i due illuminanti non sono niente male però vedete che sono molto luminosi quindi è da utilizzare in questo periodo e lo sesso si tende un pochino a essere un po' effetto molto shine molto glow brillante quindi a volte mi sembra un po' troppo devo comunque quando utilizzo questi prodotti avere una base di fondi di primer molto pacizzante per quanto riguarda gli illuminanti voglio invece questo l'ho ripescato perché non è una riscoperta semplicemente ce l'ho non ho neanche tolto la carta l'avevo trovato nel calendario dell'avvento di NYX è un illuminante le way we glow liquid highlighter perché ce l'ho non l'ho ancora aperto non sono attratta in generale dagli illuminanti liquidi perché li trovo più adatti magari a delle pelle appunto secche perché secondo me ingrassano ancora un po' di più la pelle però appunto lo voglio provare perché altrimenti non ha senso tenerlo lì così se fosse proprio che non mi piace piuttosto lo regalerò a qualcuno quindi questo lo ripesco per andarlo a provare e utilizzare ora invece passiamo ai prodotti occhi allora per quanto riguarda i prodotti occhi innanzitutto ho ripescato due eyeliner perché tra le mie varie matite e eyeliner e ho riscoperto questi due eyeliner che avevo aperti e che erano lì da un po' di tempo e l'eyeliner è uno di quei prodotti che poi tende a seccarsi un po' come mascara e quindi assolutamente li ho ripescati subito allora sono un eyeliner marrone della Essence l'eyeliner prime long lasting quindi proprio a penna tra l'altro mi sembra che non mi dispiacesse in senso che l'applicatore è molto semplice se non ricordo male aveva un marroncino un po' spento come colore non era un bel marron intenso e quindi forse per quello l'avevo lasciato un po' lì però assolutamente lo recupererò e lo utilizzerò anche perché comunque in generale ecco una cosa non sono una che anche se il prodotto non gli fa impazzire lo lascia scadere non lo proprio utilizza più mi devo proprio trovare malissimo allora piuttosto lo regalo subito altrimenti anche se non è proprio il prodotto della vita siccome comunque ripeto ci ho speso dei soldini io tendo ad utilizzare anche le cose che non mi fanno particolarmente impazzire anche perché ritengo che nella vita di tutti i giorni non è che dobbiamo andare a fare le sfilate di moda quindi anche se si utilizza il prodotto che non è il migliore per noi si può comunque utilizzare poi ovvio per l'occasione per la situazione particolare ci tengo ad utilizzare il prodotto che mi piace di più e l'altro è questo eyeliner invece di Kiko l'Ultimate Pen Longwear Eyeliner questo è nero nella colorazione 01 sempre a penna non mi sembra che fosse male neanche questo però appunto li vado a rispolverare a riscoprire perché sono lì da un po' di tempo e non li utilizziamo passiamo invece alle palette e per quanto riguarda le palette ripesco due palette che secondo me sono palette ottime per il periodo autunno-invernale che quando erano uscite i tempi mi ero esaltata tantissimo e poi non ho praticamente utilizzato e sono rispettivamente la Chocolate Bar di Too Faced che conoscerete tutti quanti è questa palette sui toni neutri marroncini caldi a me vava sempre fatto impazzire in questa shade questo rosino messo qui in mezzo mi era sempre piaciuto tantissimo però poi non so perché è una palette che non sono mai andata a cercare ma non è che in realtà non mi piaccia anche se ormai tanti dicono che queste palette sono passate non piacciono più invece a me non è che dispiaccia ma il profumo non si sente più tanto di cioccolato devo dire la verità però appunto mi piace anche anche perché secondo me queste palette per tutti i giorni sono fantastiche la qualità di Too Faced secondo me è ottima soprattutto per look di tutti i giorni e quindi assolutamente la voglio andare a utilizzare di più perché questa palette ha un po' di tempo non l'avevo preso subitissimo appena uscita però assolutamente questa palette deve essere riscoperta così come inserisco anche la Naked Heat della Urban Decay anche lei ha proprio tutte queste tonalità sul marroncino un po' rossiccio che secondo me anche queste sono quelle palette che vanno benissimo per i look da tutti i giorni anche poi secondo me sono sempre belli infatti sono un po' ormai diciamo che le Urban Decay e le Naked e anche alcune palette di Too Faced sono ormai passate diciamo e invece secondo me rimangono sempre delle ottime palette la qualità degli ombretti secondo me è ottima permette di creare dei look dalla persona meno esperta quella più esperta sono sempre belli a me piacciono sempre quindi non so perché sono ormai così un po' denigrate un po' lasciate così a me comunque piacciono è vero che uscendo continuamente tante tante novità poi le vecchie palette si vanno un po' a utilizzare meno ma assolutamente non voglio cadere in questa per quanto riguarda invece i mascara allora voglio andare a recuperare il Pupa Vamp anche perché ne ho un altro e quindi assolutamente questo lo voglio andare a utilizzare anche perché è un ottimo mascara e poi invece mi sono accorta che ho ben quattro mascara di Kiko di varie collezioni questo che era della Waterflower Magic quindi della linea primaverile dell'anno scorso mi era piaciuta tantissima col pack Lilla adesso è già uscita la linea primaverile di Kiko a gennaio la Toscan qualcosa devo dire la verità molto belli packaging però così vedere un attimo i prodotti non mi ha esaltato particolarmente giusto forse due cose ma niente di che Sparkling Holiday il mascara sesso identico packaging della Arctic Holiday che non mi ricordo neanche che collezione per cosa era uscita questa era quella sempre di Natale questa non mi ricordo e la Behind Limits waterproof mascara che invece era uscito l'estate scorsa che avevo preso proprio perché era waterproof e non ho mai utilizzato quindi mi sono prefissata di almeno uno di questi di andarlo utilizzare perché è inutile che compro continuamente mascara delle varie linee di Kiko se poi non li vado ad utilizzare infatti quest'anno quella linea natalizza non l'ho preso per quanto riguarda il prodotto di sopracciglia ripesco questo prodotto di Kiko l'Eyebrow Expert palette numero 02 che praticamente è questo prodottino con le tre cialdine in crema per fare le sopracciglia che poi io sinceramente vado a utilizzare solo queste due più chiare questa assolutamente no perché è troppo scura che ho lasciato lì per tanto tanto tempo l'ho ripreso per fare il video della full face di Kiko mi sono piaciute tantissimo le sopracciglia come erano venute con questo prodotto qui ha il pennellino e devo così per non farlo cadere e quindi assolutamente questo prodotto lo devo andare a riutilizzare perché ce l'ho già da un po' di tempo poi sono prodottini in crema quindi assolutamente questo ora passiamo invece direi che ho praticamente coperto un po' tutti i vari prodotti per il viso direi non so se ho dimenticato qualcosa ma mi sembra di no passo quindi ai prodotti labbra e in questo caso per quanto riguarda rossetti liquidi recupero questo powder puff di NYX nella colorazione cooling tensions non avevo sentito parlare benissimo dei powder puff di Kik di Kik di NYX che sono fatti in questo modo con questa applicatore a spugnetta ma io vi devo dire la verità che invece mi è piaciuto molto questo prodotto il colore cooling tension è stupendo stupendo un bellissimo nude e quindi per un periodo lo utilizzavo perché mi piaceva tanto poi anche lì il problema è che i nuovi arrivi fanno un po' dimenticare e lasciare da parte perché si vuole proprio utilizzare e provare il nuovo i vecchi prodotti ma assolutamente poi essendo quindi anche questo un prodotto liquido voglio assolutamente andarlo a utilizzare prima che si secchi perché mi piaceva tantissimo invece per quanto riguarda i rossetti in sec recupero ah no aspettate ho anche questo gloss in questo caso il lip maximizer di Dior tra l'altro questo è un prodotto che costa anche parecchio per essere un gloss è quello con l'effetto rimpolpante per le labbra ha tipo al mentolo quindi si sente un pizzicore alle labbra quando si applica però fa appunto momentaneamente dura un pochino questo effetto rimpolpante che non è carino non è niente male solo che in realtà questo prodotto ha un po' di tempo non l'ho non l'ho cercato tantissimo anche se vedete che comunque è un po' utilizzato non mi ha dato mai grandi problemi il pizzicorio che da una volta applicato è proprio il fatto che è un gloss io non amo particolarmente i gloss per questo effetto un po' appiccicoso sulle labbra e quindi per questo sono andata a cercarlo poco ma assolutamente anche per campo di tempo questo lo voglio quanto riguarda i rossetti stick ne recupero ben tre uno è di Maybelline è questo rossetto che sapete che non c'è scritta la linea il numero 60 chocolate last shine brilliant che è esattamente il rossetto che ho su oggi che è questo secondo me bellissimo colore appunto marroncino cioccolato molto bello però vedete che ha questo effetto un po' appunto luminoso effetto un po' bagnato quindi è cremoso è un po' brillante cioè non è opaco non è matt e per questo l'avevo utilizzato un pochino e poi l'avevo lasciato da parte perché è venuta un po' alla moda dei matt e quindi tendo ad utilizzare di più i rossetti matt piuttosto che cremosi però in realtà in inverno quando le labbra sono molto secche mi rendo conto che poi sono molto più piacevoli sulle labbra questi rossetti cremosi rispetto a quelli matt ad alcuni matt e quindi assolutamente questo lo voglio riutilizzare di più anche perché poi in realtà mi piace anche se ha questo effetto un po' luminoso mi piace molto gli ultimi due rossetti che voglio andare a recuperare sono questi di Kiko sono entrambe delle collezioni penso permanenti uno è il 105 Gossamer Emotion Creamy Lipstick che ha un bellissimo pack con il bottone che si schiaccia ed esce il prodotto che è questo bellissimo color malva cioè sono proprio quei colori che a me piacciono davvero tanto e quindi non so perché lo vado a cercare così poco e l'altro è Velvet Passion Matte Lipstick quello era cremoso questo è matte di questa linea che ha sempre un bellissimo packaging ma non ha il bottoncino in alto vedete il prodotto questo è più un prugna rossiccio sì assolutamente però anche questo diciamo che in generale preferisco di più questo come colore ma anche questo non è male quindi assolutamente lo voglio bene quindi direi che anche questo ripescaggio è terminato dai cosa dite sono stata abbastanza brava perché comunque mi sono impegnata ad andare a ricercare tutti quei prodotti che erano già aperti appunto lasciavo lì e non utilizzavo abbastanza e che poi magari invece mi piacciono anche tanto ma che questa cosa dei continui nuovi acquisti delle continue nuove uscite fa dimenticare non fa utilizzare abbastanza ed è proprio una cosa che mi dispiacerebbe tantissimo perché altrimenti poi mi sentirai in colpa di continuare ad acquistare così tanto senza sfruttare comunque anche quello che ho quindi voglio abbinare le due cose magari fatemi sapere nei commenti se anche voi aderite a questi progetti di smaltimento se anche voi vi siete riproposti di ripescare utilizzare più prodotti possibili che magari avete lì da un po' di tempo spero che sarò oltrettanto brava sia a terminare i prodotti del progetto smaltimento sia a utilizzare e sfruttare il più possibile invece questi del ripescaggio quindi anche per oggi io ho terminato spero tantissimo che al solito questo video vi abbia fatto un po' di compagnia e di rivedervi sul mio canale e quindi spero che vi vogliate iscrivere e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi video io vi mando un bacione grandissimo come sempre alla prossima ciao